Sono il piccolo paradiso dei pescatori, i laghetti di Sant'Alberto, una realtà poco pubblicizzata e anche poco segnalata, che si offre a chi lo frequenta come un osi di tranquillità e di bellezza, caratterizzato dalla freschezza delle sue acque sorgenti e da un verde particolarmente curato dal proprietario, che vi alleva soprattutto troti ridee e trote salmonate. Io faccio arrivare le trotelle piccole, le alimento con un mangime che si chiama mangime bianco, sempre per la trota, e la tiro su all'incirca fino a tretti di peso. Dopo tretti parte la salmonatura, la salmonatura arriva fino a faccio tagli di un chilo, un chilo e mezzo, fino a un chilo e mezzo. Ma anche chi non sa pescare frequenta i laghetti di Sant'Alberto, dove miracolosamente non arriva il rumore del traffico della provinciale, che pure scorre a pochi passi. Un angolo di natura dove è bello sostare per qualche ora di relax e magari poi portarsi a casa i pesci dell'allevamento per un'alimentazione sale e leggera, perché la carne delle trote è ricca di grassi polinsaturi, quelli che tengono sotto controllo il colesterolo. Se vedo che qualcuno non è esperto, se ho il tempo, gli do una mano a fargli provare. Oppure se qualcuno lo vuole prendere così, lo prende direttamente così, sì, lo vendo direttamente così. Molti che non sanno pescare, però vogliono ugualmente il pesce. Quindi è come un po' un allevamento di pesce, può venire la gente a comprarlo? Sì, 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 è proprio quello. Però c'è anche il principio della pesca sportiva, cioè che uno vuole passare la giornata a pescare, ok, e allora lo vuole, ci sono molti che proprio lo vogliono prendere loro, se non lo prendono loro non sono soddisfatti, non è buono quello che dicono.